e buongiorno a tutti amici cripto curiosi cripto crash ragazzi sta crollando tutto lo scenario che non ci volevamo aspettare soprattutto per bitcoin ragazzi oggi lo andremo a vedere bitcoin caspa solana ethereum i principali asset che vediamo in questo canale ragazzi quello che doveva succedere quello che non doveva succedere è successo perché bitcoin ragazzi oggi ha testato quota di 53.500 dollari ok poi ad adesso nelle ultime ore un pochettino riassorbito il prezzo ma abbiamo dei volumi molto importanti ragazzi stiamo entrando in bear market effettivamente c'è chi sostiene di sì c'è chi sostiene di no nella mia community avete anche votato su questo fatto qui ora andremo a vedere andremo a vedere anche caspa ragazzi che è andato a ritestare queste soie al di sotto dei 15 centesimi di dollaro ragazzi naturalmente dopo tutto quello che sta succedendo anche altri asset come solana ha perso molto ad ora 100 quasi 130 dollari ethereum ragazzi al di sotto dei 3000 dollari quello che dicevamo ieri in sostanza che non volevamo che succedesse è successo in effetti portando con sé una miriade di liquidazioni ragazzi assurde altcoin morte si può dirlo altcoin veramente morte ragazzi e andiamo a vedere tutto in questo video prima di iniziare vi ricordo un bel like al video iscrivetevi al canale accendete la campanellina delle notifiche vi lascio il link del canale telegram ragazzi importantissimo c'è questo exchange tap bit che oltre a fare una promo pazzesca che durerà fino al 17 luglio ragazzi a mezzanotte del 17 luglio si può utilizzare senza che gli sia ad ora quindi si può fare tutto quanto senza che si tap bit fino a 1000 euro sul deposito bonus fino a 1000 euro il bonus ragazzi qui sulla mia community di youtube lo andrò anche a ripostare oggi comunque un giorno fa ho fatto questo post dove spiega tutto quanto come funziona questo bonus sul primo deposito vi lascio il link qui sotto ragazzi solo con questo link potete accedere al bonus ai migliori sconti commissione a vita detto ciò amici marasma brutale purtroppo situazione veramente disastrosa vediamo ragazzi come molti asset anche che avevano acquistato diciamo dei gain nell'ultima settimana sono andato a terra ragazzi meme coin pepe shiba doge coin su livelli assurdi art coin hanno perso moltissimo troviamo tantissimi art coin guardate light coin ordi arbitrium ragazzi tutte sopra al 10 barra 15 per cento di gain in meno cala 15 per cento ragazzi giornata di sastro sa bear market non bear market ragazzi intanto oggi comunque sia ad ora fatemi riaggiornare la pagina perché forse questi dati sono cambiati proprio nell'ultimo secondo infatti si bitcoin 200 milioni e oltre di liquidazioni ragazzi guardate il long 152 milioni di liquidazioni disastro totale ethereum quasi 160 milioni di liquidazioni totali il long 135 milioni altri asset un totale di 105 milioni in liquidazioni ragazzi poi troviamo doge bnb casino casino assoluto casino assoluto io e miei sondaggi ragazzi l'ultimo dei miei sondaggi quali le seguente criptovalute questo riguarda le meme vi avete ok votato su shibaino ma questo ci interessa poco ad ora criptovalute in forte crisi stiamo veramente entrati nel bear market ragazzi in più del 54 per cento su 24 voti ha cliccato su no quindi sentiment ancora molto positivo diciamo un pochettino positivo ma vista la giornata di oggi ragazzi andremo a rifare magari il sondaggio ma c'è effettivamente è brutta la situazione molto brutta allora andiamo a vedere caspa ragazzi rimaniamo incollati un attimo su caspa trend negativo nell'ultima settimana un meno 14,6 per cento ad ora nel settimanale solo nella giornata di oggi più del 7 per cento è andato a perdere market cap ha perso dei punti anche qui del 7 per cento però siamo al ventitresimo posto eravamo sul ventiquattresimo naturalmente perdendo altri asset molto in market cap comunque caspa è rimasto al ventitresimo posto in aumento importante i volumi di quasi 59 per cento stiamo parlando di 151 milioni di dollari in volumi caspa ragazzi che cosa sta facendo come avevamo visto gli altri giorni avevamo questo trend in negativo ragazzi che si era ecco qui si era praticamente formato si stava formando in queste due candele ovvero partito effettivamente confermato il primo luglio proprio preciso preciso primo luglio inizio mese ragazzi questo trend in negativo ha portato caspa da su ultimo volta i mai di 0,19 e 8 all'incirca ad ora ragazzi a ritestare zone dello 0,14 e 69 ora sta reggendo diciamo bene il supporto dello 0,15 ok quindi nonché soglia psicologica dello 0,15 e quindi in sostanza qui comunque sia anche qui siamo diciamo abbiamo dei volumi in short ragazzi importanti ok tutto su questo tratto qui come ben vediamo ragazzi la situazione è un pochettino critica ora bisogna vedere se reggirà bene queste soglie di supporto qui se andrà a lateralizzare il prezzo anche perché la stocastica ragazzi dal segnale in short che ci aveva dato infatti effettivamente questo era un bellissimo entry point in short per chi ha saputo sfruttarlo vedete l'impulso di volumi in questa giornata qui ragazzi qui c'era il campanello di allarme perché effettivamente ci poteva dire che il prezzo di caspa poteva scendere nei prossimi giorni infatti è sceso la stocastica ci ha dato un segnale chiaro e ad ora siamo in zona quasi neostra e sembra che stiamo scendendo effettivamente RSI zona 44.46 ragazzi caspa sappiamo tutti che cosa c'è ora il KRC 20 verranno realizzati comunque sia meme asset nel protocollo KRC 20 quindi in sostanza le notizie rimangono bullish però naturalmente risentito di tutto questo crollo anche caspa naturalmente bitcoin ragazzi bitcoin sangue 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 su sangue 55.262 dollari ad adesso nel momento in cui stiamo registrando il video nell'ultima settimana ragazzi un meno 10,29 per cento su bitcoin market cap meno 4,36 per cento volumi nelle ultime 24 ore aumentati più del 36 per cento ragazzi sangue nero per quanto riguarda bitcoin andiamolo a vedere subito che è riuscito a ritestare zone dei 53.500 dollari all'incirca ok quindi non doveva essere assolutamente rotta questa soglia di ex supporto ovvero la soglia dei 58.000 ok all'incirca invece la giornata di ieri rotta riconfermata anche oggi volumi importanti e anche qui la situazione è abbastanza negativa ad ora ok perché sta proprio crollando effettivamente ricordiamo bitcoin bitcoin ragazzi dal suo recente massimo ad ora un meno ragazzi 25 per cento oltre 25 per cento ragazzi situazione abbastanza disastrosa segnale anche qui sulla stocastica molto molto chiaro da zone neutre comunque sia dopo il segnale stiamo andati in zone di iper venduto stiamo andando comunque sia non ci siamo proprio effettivamente rsi stiamo in zone di iper venduto 25.26 però capiamo bene che qua ragazzi guardate i volumi di questi giorni in short quindi il mercato ora è governato dagli shortisti quindi da i seller ragazzi situazione veramente a quarto disastrosa sarà diciamo effettivamente il bull market è finito ok questo segna la fine del bull market ragazzi e qui diventa come una scommessa perché effettivamente ragazzi non non lo sa nessuno qui abbiamo altre soglie dei 51.000 ok queste soglie di supporto effettivamente qui in fase di accumulazione precedente è che sembra che il prezzo stia tentando effettivamente di andare a raggiungere queste soglie qui magari poi non lo farà oppure ragazzi è una situazione più grave effettivamente dopo qui siamo sui 42.000 dollari ok quindi in sostanza questo per quanto riguarda bitcoin andiamo su qualche notizia per quanto riguarda bitcoin poi vediamo Solana Ethereum una notizia su sito di The Crypto Gateway bitcoin al via i rimborsi di MTGOX e BTC crolla 54k la pressione di vendita su bitcoin si fa ancora più intensa a seguito al gigantesco gigatrasferimento di 47,229 bitcoin da parte di MTGOX e bitcoin va sempre più giù infatti ora andiamo a vedere anche un attimo qui ci fa riferimento anche l'artcoin giornata veramente nera comunque possiamo andarle un attimo a vedere così su due piedi tanto per farvi capire che nelle ultime 24 ore ragazzi vedete qui la sfilsa di Alcon nelle ultime 24 ore meno 16% meno 15% meno 14% meno 14% meno 13% ragazzi liquidate una miriade una miriade di posizioni se andiamo a vedere ETF inflow ragazzi non abbiamo ancora il dato di oggi cioè di ieri ragazzi del 4 oggi siamo il 5 naturalmente però la giornata del 3 outflow di 20 milioni di dollari il resto l'abbiamo visto quindi settimana un pochettino giorni un pochettino abbastanza stabile tra inflow e outflow solana ragazzi molto importante oltre alle notizie molto bullici che ci sono su solana però naturalmente anche solana guardate qui nel settimana almeno 11,38% volumi in aumento del 43% market cap meno 3,49% è riuscita a toccare andiamola a vedere sulla chart un attimo un secondo è riuscita a toccare anche solana purtroppo allora solana 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 eccola qui ragazzi effettivamente conferma della rottura di questo trend in positivo che sembrava riportare solana diciamo a una corsa verso i 200 dollari effettivamente non c'è stata anche se qui ora nell'ultimo momento effettivamente forse un doppio minimo qui stanno comprando ragazzi vedete i volumi di quest'ultima giornata adesso sono importanti ok quindi non rispecchiano quello che è successo l'altro ieri e ieri anche se comunque sia c'è da fare attenzione perché effettivamente ancora diciamo che non possiamo dire di un trend che si sta invertendo per solana qui avevamo un segnale a stocastica nella giornata dell'altro ieri in short riconfermato anche dalla stocastica come ben vediamo le due medie stanno andando in zona di iper venduto rsi zona 40 quindi in sostanza ecco qui solana che in questi ultimi giorni ultimi tre giorni quindi ultimi tre giorni dai massimi ai minimi meno 21 per cento quasi 22 per cento ragazzi ora sta testando comunque sia vedete ha provato a sfondare questa soglia di supporto che si è formata precedentemente qui molto importante perché toccata varie volte naturalmente quindi molto importante questa soglia di supporto dei 126 dollari all'incirca barra 125 dollari ok quindi vedremo comunque sia se effettivamente la chiusura di oggi andrà a rompere anche questa soglia di supporto oppure reggerà il prezzo andiamo a vedere ethereum ragazzi stessa cosa ethereum male 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 malissimo gli ultimi sette giorni quasi 15 per cento anzi più 15 per cento di perdita mensile ragazzi parliamo del 23 per cento volumi negli ultimi 24 ore 56,68 per cento market cap meno 7 per cento ragazzi ethereum anche sta soffrendo molto nonché comunque sia ci aspettiamo a luglio questi benedetti approvazioni al secondo modulo riguardo gli etf e però ecco qui ethereum che ha fatto ragazzi questa è una situazione su ethereum anche abbastanza più disastrosa secondo me di bitcoin perché se vediamo bene ragazzi queste ultime tre giornate abbiamo anche la conferma da parte dei volumi molto importanti in vendita stocastica ci ha dato un segnale chiaro nella giornata di 3-4 giorni fa ragazzi situazione tragica per retino perché ha sfondato queste soglie di supporto che si erano create precedentemente ragazzi proprio sfondate completamente quindi diventate zone di resistenza ha provato anche a sfondare questo supporto che è importantissimo come ben vediamo anche qui anche per solana come ben vediamo anche qui di testato più volte più volte più volte più volte ha provato effettivamente portando anche il prezzo di ethereum ai 2810 dollari ragazzi sembrano sentori di bear market sembrano sentori di bear market ragazzi quindi c'è diciamo che sta diventando una cosa una roulette russa diciamo questo settore delle cripto però effettivamente questo la situazione per ethereum andremo a vedere se comunque sia può reggere bene questa zona di supporto qui nel breve nella chiusura anche della candela di oggi staremo a vedere un pochettino tutto quanto detto ciò amici fatemi sapere nei commenti vi posto le notizie sulla mia community youtube i sondaggi quindi quelle più importanti mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale vi lascio tutti quanti gli altri link sotto in descrizione e fatemi sapere la vostra la vostra visione ciao a tutti